In questo 2021 abbiamo raccolto soddisfazioni incredibili. Sono arrivati nell'ordine il titolo mondiale di Francesco Mariani, l'europeo MTBO grazie a Iris Pecorari e il primo podio in World Cup con Riccardo Scaletti. Lo sport italiano è salito ai vertici di quello internazionale e l'Orienteering ha fatto la sua parte. Abbiamo gareggiato sullo sfondo di panorami mozzafiato apprezzando l'unicità del nostro sport che nella competizione cementa le amicizie. Alla ricerca di percorsi ideali e strategie di gara abbiamo cambiato direzione improvvisamente, come spesso si fa nella vita, da soli o tra ali di forma. È stato l'anno delle sperimentazioni con nuove formule di Orienteering, belle e stimolanti per ampliare la nostra esperienza sportiva. Le nostre gioie nascono dal superamento degli ostacoli. L'Orienteering è la disciplina di chi non si arresta nemmeno davanti ad un imprevisto nelle scelte. Grinta e Capaghetà ci hanno permesso di raggiungere risultati inimmaginati. Oggi siamo una realtà viva e ci proiettiamo verso un futuro da protagonisti con nuove energie, quelle dei nostri atleti e delle società, con dei nuovi ed importanti partner per affrontare al meglio una nuova stagione di grande Orienteering. Grazie a tutti voi che siete la forza della Fiso. Grazie a tutti.